Sì, sì. Puoi partire. Facciamo una cruce, cominciamo. Il quadro, il quadro. Ma lo stai bene perché tutto sarà nostro giorno. Ce ne andremo insieme a vivere per conto nostro. A fare un po' di vita buona. E nessuno sa di dove veniamo. No, smetti la cruce, non servono a niente. Tu non mami più come prima, Pepe. Perché? Pepe. Cosa? Ho portato un'arancia. Ho portato delle sigarette. E delle sigarette. In un'ベastare. Grazie a tutti. No. 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 Tu qua non ci devi venire. Ma come te lo devo fare capire se può sapere come hai a parlare? Se prende fuoco la pellicola, ma come sei piccolo tu, fai una pampata sola. Vum! E diventa un pezzo di carbone. Minchia che lingua lunga che hai. Un giorno l'altro, tra taglio. Proprio così. Me lo posso prendere? Allora me lo posso prendere? Me lo posso prendere? No. Minchia ma allora sordo sei. Questo lo devo mettere di nuovo dentro quando smontiamo la pellicola, santo diavolone. Ma peggiori una piattola, sì. Allora questi perché non ce li hai messi quando hai rimontato la pellicola, eh? Beh, perché qualche volta non ce l'ho più il punto giusto e allora in sostanza restano qua. Tanto troppe volte si baciano. Allora questi ve li posso prendere? No, senta mia. Perché? Prima che ti do un calcio in culo, noi due facciamo un patto. Tutte queste pezze qua sono tuoi, te le regalo. Grazie. Prego. Però numero uno, qua non ci deve venire più. Numero due te le tengo io, capiste? Va bene. Va bene, allora d'accordo. E ora vattene. Però, che patto è? Se questi sono miei, perché te li devo tenere tu? Mica. Non ti fare vedere più, ti spacco la testa, mi sentiste? Pam, pam, pam. Prima spara e poi pensa. Questo non ho lavoro per gente delicata. Pensa di cornuta, c'è dietro. Ehi tu, lurido bastardo. Cala giù le mani da loro. Ta 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 ta. Sporco negro. Stai alla larga da me. Se no ti rompa la guaccia. Wow. Ma, se la guerra è finita, perché papà non torna mai? Torna, torna. Vedrai che torna. Uno di questi giorni. Io non me lo ricordo più. Ma dove è la Russia? Ci vogliono anni per andarci. E anni per tornare. Ora vai a dormire, totò. Che è tardi. Che è tardi. A me, a comate po' fottere, non a mea. Prenditi un pezzo di carta e vai a fare un carabinare, disgraziato. C'è cos'è? Allora, quanto fa 5 per 5? 30. Silenzio! Colonnina del 5, testa di scecco. 1 per 5, 5, 2 per 5, 10, 3 per 5, 15, 4 per 5, 10. 5 per 5. 40. Silenzio! Silenzio! Le colonnine sono importanti, se no nella vita non farete mai niente, non troverete mai un lavoro. Per l'ultima volta, quanto fa 5 per 5? Natale! Oh no! La storia! Calgasule! Cal Susene! Calgasule! Calgasule! Alguien. Calgasule! Uè, ho provato il biglietto, devo vedere la pellicola. Mia, ce ne vediamo, quando continui a dire qua, non ci può stare, avanti, vantemi dalla sala. Mangia, managgia di me, non su, peggio delle puniche, si infilano puniche, scherzate di me. Grazie.